Il nuovo ponte sul fiume Ippari, opera che la città di Vittoria e non solo attende da anni e che è destinata a rimanere incompiuta ancora per molto. Attualmente solo un ponte ormai pericolante e aperto solamente per metà corsia, con delle transenne visibili di giorno ma completamente al buio durante la notte. E di questi giorni infatti la notizia è che la regione ha dirottato i fondi, circa 1.400.000 euro dal libero consorzio di Ragusa a quello di Siracusa, per il semplice motivo che l'area aretusea tra le due è quella che, visto il pessimo bilancio economico, più necessita di finanziamenti. Ad intervenire sull'argomento il deputato Ibleo Nello di Pasquale, che parla di uno scippo in danno al territorio ragusano, visto dalla regione come una cenerentola del sud-est, sempre ultima nella lista delle priorità. Il ponte sul fiume dell'Ippari, ricorda di Pasquale, è una infrastruttura che versa in uno stato disastroso e pericolosissimo per chi lo percorre, ma evidentemente di nessun interesse per la regione siciliana che ha deciso di dirottare al libero consorzio di Siracusa i fondi previsti per Ragusa. Finanziamenti che il territorio attendeva per investimenti di varia natura, e tra i quali anche l'abbattimento e la ricostruzione del ponte sull'Ippari per 350.000 euro. Ad intervenire ieri in aula allarse anche la deputata Stefania Campo, che parla di promesse non rispettate, di una zona ad alto rischio, destinata a rimanere nel dimenticatoio del semaforo che era stato installato qualche mese fa e di cui adesso non c'è neanche l'ombra. Lo scorso maggio, a proseguito la deputata Iblea, sono state realizzate finalmente le prove tecniche di portata sul ponte con le relative indagini finalizzate a pervenire alla progettazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza dell'opera. Dall'esito di queste indagini è emersa la necessità di procedere alla demolizione del ponte e al rifacimento ex novo. Adesso siamo stati informati che tutti i finanziamenti previsti sono stati già dirottati su Siracusa. Questa è una politica che io non comprendo, cioè chi è bravo non ha diritto ai soldi perché dobbiamo aiutare gli altri. C'erano dei fondi stanziati, ripristiniamoli al più presto e cerchiamo di mettere in sicurezza questo ponte perché, come ripeto, è ad alto traffico. L'ultima parola sarà quindi quella dell'assessore regionale alle autonomie locali, Bernadette Grasso, attualmente fermo su quanto già dichiarato per il ponte sul fiume Ippari, così come per le altre opere in attesa a Ragusa, se ne discuterà entro il prossimo anno. I soldi destinati al territorio Ibleo in pratica sono più utili al libero consorzio di Siracusa.